Ciao a tutti ragazzi, qui è Teddy, benvenuti ad un nuovo video sulla Formula 1, anche qua è un po' che non uscivano, ma anche perché c'era poco da dire ad esempio della gara di Baku, gara di Canada, purtroppo la Ferrari sbagliata stava lottando con Verstappen e la Ferrari sbagliata ha fatto tre errori negli ultimi tre giri che hanno impedito l'attacco nel momento clou della gara, parliamo della gara di Silverstone perché Allora, come da pronostico dello streamer vince Carlos Merdines e purtroppo rimane Carlos Merdines, nonostante la vittoria imbarazzante anche oggi Come fa il tuo compagno di squadra a darti otto decimi al giro, otto, con un pezzo di macchina in meno? Allora, uno può dirmi, sì ma aveva poca benzina Quello ha un pezzo di macchina in meno Quello, altro, quello forte, quello che dovrebbe essere il primo pilota Quello che dovrebbe vincere le gare Quello che la scuderia dovrebbe avvantaggiare Gli dava mezzo secondo, tre decimi, prima del problema della benzina, ok? Gli dava mezzo secondo al giro, senza un pezzo d'ala E la difesa all'esterno su Hamilton a Copps con due mescole di svantaggio senza un pezzo d'ala Ok? Dovrebbe far più o meno capire il livello del pilota Charles Leclerc Che io continuo a sostenere sia il pilota più forte in griglia di gran lunga più di Verstappen anche Nonostante Verstappen sia un fenomeno E oggi era la volta buona per recuperare punti su quella Red Bull del merda Che anche oggi ha avuto problemi alla macchina di Verstappen Neanche oggi Sì, punti recuperati, ma quanti? Cinque, sei, quanti cazzo sono? Se Leclerc avesse vinto la gara Verstappen ha fatto sesto, settimo Erano almeno 15-16 punti che venivano recuperati Ok? Non diventavi primo nel mondiale di nuovo Ma ti avvicinavi in maniera molto importante alla vetta E invece no E invece no E invece no E invece no Perché? Perché? Non lo sapremo mai il perché Allora, parlando della gara in generale però Adesso che ho iniziato molto bene Andiamo avanti spiegando un po' come è andata la gara Allora, la gara è stata molto intensa Perché? Una safety car Perché senza la safety car Gli ultimi giri non li avremmo mai visti O meglio, li avremmo visti con una Mercedes Scatenata con Lewis Hamilton Hammer Time e Driver of the Day A mani basse Perché? Può essere Perez Può essere Perez Il Driver of the Day Assolutamente Era ultimo E poi è recuperato fino al Al secondo posto Ma Diciamo in maniera Fortunosa Perché la gara fino a quel momento L'aveva dominata Leclerc Ma allo stesso identico modo L'aveva dominata Hamilton Perché Giro veloce Contro giro veloce Contro giro veloce Contro giro veloce Si stavano scannando A suon di giri veloci La Mercedes che sembra Pare essere tornata Quanto meno competitiva A livello di Red Bull E Ferrari E questo ovviamente È un vantaggio Per chi? Per chi è davanti Per Red Bull Perché Se Hamilton riesce ad inserirsi Tra la Ferrari Quindi Verstappen vince Ma Hamilton fa secondo E Leclerc fa terzo È un vantaggio Per la Red Bull Perché Hamilton e Russell Perché oggi Russell È stato Ucciso Alla Neanche alla prima curva Al rettilione di partenza Dopo qualche metro Dallo start Creando quel bruttissimo incidente Che per fortuna Non ha creato Ulteriori problemi Per quanto riguardava La salute dei piloti Perché Cioè Il volo Che ha fatto Su è stato Bestiale Da vedere Da tutte le angolazioni possibili Immaginare È stato qualcosa di Io non oso immaginare Cosa abbia pensato lui Mentre viaggiava A 200 km A testa in giù Per di più Perché era letteralmente A testa in giù Io non oso immaginare Cosa abbia flashato In quei momenti Quel povero ragazzo Spero che non rimanga Troppo traumatizzato Comunque stava ridendo Nel post gara Però Questo tipo di traumi Secondo me Anche se ridi Nel post gara Comunque ti rimangono Ecco Un po' Un po' Dentro Speriamo che non causino Troppi problemi al ragazzo Poi andando più avanti Per fortuna Pare che non abbia Comunque grossi danni Quello che invece Ha avuto danni È Albon Che è stato Trasportato poi Al centro medico Per delle verifiche ulteriori Per degli accertamenti Ma per fortuna Pare che anche lui Sia tutto a posto Quindi Per la dinamica Dell'incidente Che è scaturita Per fortuna I danni Sono stati molto minori Rispetto ai potenziali danni Anche in F2 Questa mattina Si rischiava di fare Come Hamilton Verstappen A Monza Anzi a tutti gli effetti È stato fatto come Hamilton Verstappen A Monza L'anno scorso Lalo ha fortunatamente Salvato nuovamente Un'altra vita Di un giovane pilota Perché l'altro Gli è proprio salito sopra E Lalo Ha bloccato Completamente la macchina Impedendo che gli schiacciasse Completamente La testa Però A parte A parte questo Comunque Dover di cronaca Perché è stato un incidente Veramente Clamoroso Spaventoso Da vedere La gara poi È stata dominata Dalle Clerc Perché la gara È stata dominata Dalle Clerc Con un pezzo in meno Perché durante la partenza Perez Ha Prima Impostato Curva 3 Tutto a destra Poi appena visto che Si allargava anche Verstappen Per cercare di superare Sainz Ha stretto E lì Le Clerc Se l'è trovato davanti Ha dovuto andare ancora più interno Ma Non c'era più spazio Ha preso anche il Dosso Che c'era all'interno Della curva Praticamente si è spezzato Quel pezzo di ala Che poi quasi Andava in faccia a Perez A rettilineo Precops E Le Clerc Con Tipo Hamilton L'anno scorso Intanto Antonio Grazie per il follow E tipo Le Clerc Come Hamilton L'anno scorso A Jedda Che con l'Alarotta Cioè Vabbè ma chi se ne frega E con Le Clerc È più o meno uguale Alla rotta Vabbè ma chi se ne frega Girava con il ritmo Comunque di Sainz E di Verstappen Tutto sommato Senza un pezzo d'ala Con Hamilton Invece che ha perso tempo Dietro a Perez E Norris Con Perez Anche lui con problemi all'ala Infatti poi è rientrato Perché Red Bull Ha deciso di cambiare ala Mentre invece con Le Clerc La Ferrari Ha deciso di non farlo E Hamilton poi ha iniziato A martellare Come i bei tempi Come letteralmente Fino all'anno scorso Con giri veloci Su giri veloci Su giri veloci E per fortuna Della Ferrari Verstappen Ha avuto quel problema Meccanico Alla macchina Che lo ha messo Completamente fuori gioco Perché comunque Una volta che Merdines Ha sbagliato Alla Chapelle Poco prima della Chapelle Avevamo ancora Maggotze e Beckett Praticamente impostando La Chapelle Ha perso la macchina Stava andando a muro L'ha salvata bene Lì Verstappen Aveva già DRS Ha fatto il sorpasso Più facile della sua vita Stava andando via Era fuori dal DRS Poi problema meccanico Per Per Verstappen E Verstappen Out E quindi Arriviamo A Leclerc Contro Merdines Leclerc Che dice al muretto Sono più veloce Sono più veloce Sono più veloce Mi state facendo perdere tempo Carlos Guarda che Hamilton Gira mezzo secondo Più veloce di voi Quindi devi muoverti Ok Mezzo secondo recuperato Carlos Hamilton Gira mezzo secondo Più veloce di voi Devi aumentare il passo Va bene Mezzo secondo Carlos Abbiamo perso un secondo In due giri Devi velocizzarti Sì sì dammi un altro giro Altro mezzo secondo Tant'è che In quel momento Leclerc Fa la domanda Delle domande Siamo in lotta Risposta Risposta Abbiamo il gap di sosta Su Hamilton Allora io ho fatto un video L'ultimo video di formula 1 Che ho fatto Ho detto Ragazzi Manca la mentalità Vincente in questa squadra Manca un uomo di punta Che sappia dare Una direzione Se il tuo primo pilota Ti chiede Di Quanto meno Se siamo in lotta E o Di farlo passare Tu non puoi rispondere Abbiamo Il gap Per la sosta Sul pilota dietro Che risposta è Cioè io avrei Piantato la macchina a muro Mi sarei andato dritto Dalla vergogna Per la risposta Anzi Sarei tornato ai box E mi sarei piantato Contro i box Proprio Avrei tirato dritto Nei box Avrei fatto saltare in aria Tutto Cioè Che risposta Del cazzo è Di No Non possiamo lottare Oppure Sì potete lottare Oppure No guarda Charles è meglio di no Perché anche Se Hamilton sta recuperando Comunque poi Gli usciamo davanti Quando si ferma lui Cioè Rob No No Risposte Del cazzo Perché Hanno Non so Hanno paura Di 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 Offendere i piloti Hanno paura Di Non so che cazzo Hanno paura Di Di Parlare Chiaro Quindi Loro hanno paura Di offendere i piloti Non parlando chiaro Quindi parlano a cazzo di cane E fanno innerfusire i piloti Perché anche Sainz Li stavano girando i coglioni E fossi stato Sainz Avrei tirato pure Dopo Leclerc Che tirava dritto nei box Arrivava pure Sainz E tiravo dritto pure Contro la macchina Leclerc Foghanno saltare veramente Alla seconda In aria tutto Cioè Anche a Sainz Che cazzo continui a dirgli Vai più veloce di così Se è più veloce di così Non può andare Gli hai già detto tre volte Non può andare più veloce di così Evidentemente Non è che se continua a dirgli Lo cambia qualcosa Cioè Non è che se Uno è incapace In matematica E studia otto ore al giorno E prende due ogni verifica E gli dice Vabbè la persona studia Dodici ore al giorno No Perché se non è capace Non è capace Fino a un certo punto Studia otto ore al giorno Piglia due lo stesso Che cazzo Continua a studiare otto ore al giorno A sto punto Va a fanculo Ecco Stessa cosa per Sainz Se vedi che è più veloce di così Non può andare Perché non può andare Perché il suo talento Gli impedisce di andare Forte come uno Che gli manca un pezzo d'ala Lo fai spostare Via Fai il swap dei piloti Poi abbiamo visto Che Leclerc e Sainz Comunque più o meno Si pareggiavano In quel frangente di gara E va bene Però Lascia davanti Leclerc Abbiamo visto poi che Appena Leclerc Si è messo davanti Sainz ha abbassato I suoi tempi Di 3-4 decimi Con Leclerc Come riferimento Senza un pezzo d'ala Quindi perché Puttana la miseria Ladra Non fai lo swap Prima Va bene Quindi Fanno fermare Sainz Per Per Accontentare Leclerc E per Cercare di mettere Pressione su Hamilton Ok Però le risposte Che hanno dato In quei 5-6 giri Sono roba da Mai dire gol Veramente Ok Hamilton continua Con la gomma media Indistruttibile Imbarazzante A girare Come un forsennato Giro veloce Giro veloce Passo gara Allucinante Veramente Vintage Mercedes A Silverstone Si ferma anche Leclerc Leclerc Inizia a girare Come un folle Anche lui Gli hanno alzato Il carico All'area Dell'ala davanti Per appunto Aiutarlo un attimo Con le curve Ad alta velocità Infatti nel secondo Settore Leclerc Era il più veloce In pista Ogni singolo Giro Era il più veloce In pista Nel secondo Settore Che è il settore Quello di Maggots e Beckets Senza un pezzo D'ala Che dovrebbe essere Il contrario Tecnicamente Dovrebbe perdere Un casino Era più veloce Di tutti Senza un pezzo D'ala Nel settore Centrale Di Maggots E Beckets Inizia a girare Come un animale Anche lui Sui tempi Di Hamilton Meglio Addirittura Abbassava Costantemente Si ferma Hamilton E quindi 1-2 Ferrari Terzo Hamilton Però con gomme Di 10-15 giri Più fresche Quindi Hamilton Sarebbe rientrato Per la lotta Assolutamente sì Lì poi c'è il problema Di Sainz Con la benzina Quindi inizia a perdere L'ottodecimo al giro Hamilton Praticamente sarebbe arrivato In DRS Da lì a poco Con parole famose Di Sainz O Ricordatevi Più avanti Che se Hamilton Arriva Dite a Shard Dammi DRS Problema della benzina Un giro dopo Proprio tempismo perfetto Carlos E poi accade L'irreparabile Perché lì dove poi La gara si è Completamente aperta E dove il fattaccio È accaduto Ovvero Ocon supera Verstappen E poi Gli esplode la macchina Ora Esplode la macchina Dove Nel peggior posto Della pista Ovvero Piantato In uscita Dall'offil De Brooklands Fa il rettilineo Pre-Cops Arriva quasi A Cops Dove avrebbe Potuto mettere La macchina Sulla destra E non sarebbe Successo niente Invece no La macchina Muore Letteralmente 50 metri Prima della curva Dove non sarebbe Entrata nessuno Safety car Questa è sfiga Questa è sfiga Soprattutto Conoscendo il muletto Ferrari È sfiga E infatti Safety car È qui Allora I casi I casi sono due Perché adesso I casi sono due O la Ferrari Reputa Leclerc Talmente Forte Talmente Sovrannaturale Talmente Fenomeno Talmente Goat Talmente God Talmente Superiore Talmente Capace Bravo Talmente A un livello Diverso Rispetto a qualunque Altro pilota Della storia Non della griglia Della storia E quindi Gli boicottano Le gare apposta Per farlo vincere Boicottandolo Per vedere Se veramente Questo Goat Che tutti dicono E io Credo Che abbia le potenzià Per diventare Uno dei migliori Cinque piloti Della storia Però deve Vincere con qualcuno Oppure Lo vogliono Far incazzare Non c'è una via di mezzo Cioè O è una O è l'altra Perché non può essere Una Una spiegazione In mezzo Non può esistere Una spiegazione In mezzo Perché Se tu hai Il primo pilota Che è primo E si sta giocando Il mondiale Ha perso Due gare Catalunia era primo Dominando Esploso il motore Abu Dhabi Sì ciao Abu Dhabi Baku Primo Dominando Anche se Verstappen Comunque era più veloce Però In quel momento Leclerc era primo E la gara era tutta da giocare Esploso Morto Il motore Ok Quindi Deve rimontare Perché in Canada Gli avete cambiato tutta la centralina Quindi partiva ultimo E finito quinto Va bene Poteva fare addirittura di più Poteva finire meglio Se avesse avuto trazione In quel merda di tornante Prima del lungo rettilineo Per arrivare al World of Champions Perché avrebbe fatto podio Aveva fatto podio Con una Pochino più di trazione Era podio Ai Il quarto Che ha un minuto Quanto era il quarto C'era Leclerc Sainz Hamilton In tre secondi E poi il quarto Era mezza pista Di differenza Perché non fai un double stack Punto e basta Primo Secondo Perché non fai fermare Leclerc E si ferma Hamilton Perché Hamilton Poteva fermarsi Hamilton era l'unico Che poteva fermarsi Ok allora In quel momento Hanno ragione Quando in telecronica Hanno detto Che Hamilton e Sainz Erano quelli Che potevano fermarsi E Leclerc Era quello Che rischiava più di tutti È vero Quella è sfiga di Charles Quella è vero La safety car È entrata nel momento Peggiore in cui poteva entrare Questo è Obiettivo Quella safety car È entrata nel momento Peggiore della gara Per le Ferrari Ma la mia domanda è Perché non fai fermare Leclerc E si ferma dietro Hamilton Sainz lo lasci fuori Con la bianca Fai passare Leclerc E poi dici a Sainz Carlos Blocca tutto Quello che puoi Tampona tutto Quello che puoi Tanto Verstappen è dietro Non arriva mai Cioè Sainz non è in lotta Per il mondiale Va bene che gli vuoi far Vincere la gara Perché è il secondo pilota E gli dà il contentino Bravo Carlos Ma non sono queste le gare Dove Carlos deve vincere Cioè Se Leclerc fa secondo Gli voglia poi far vincere Con Verstappen ritirato Ma se Verstappen è sesto E Leclerc Può vincere la gara Ma falla vincere a Leclerc Se no quando cazzo Recuperiamo i punti Quando Verstappen fa secondo Col giro veloce Magari pure Che tra l'altro Ce l'ha inculato anche Hamilton Tra l'altro Il giro veloce L'ultimo giro Cioè Quando cazzo Deve far vincere Fallo vincere L'Abu Dabi Fallo vincere Ad Abu Dabi Deve farlo vincere Fallo vincere Quando è una doppietta facile Che Verstappen ritirato 1-2 Abbiamo un minuto di vantaggio Sul terzo Va bene Dai Carlos vinci Sta gara di merda 20 punti recuperati Cioè Va bene Ci sta Ma non quando il mondiale On the line Con quello Con la gomma bianca Che supera Hamilton Sette volte campione del mondo All'esterno Alla Cobbs Con un pezzo d'ala in meno Robbe mai viste prima Sto quasi piangendo Ma per Leclerc Io mi appenderei qua Se io vedo ormai Leclerc appeso Da qualche parte Lo capisco Ok Qualcuno può dirmi Sì Però Se fai il double stack Hamilton è dietro Leclerc Hamilton non ha niente da perdere Perché il mondiale Non lo vince mai E quindi Può succederli irreparabile Ora È vero che Hamilton L'anno scorso Ha piantato a muro Verstappen a 250 all'ora Però è anche vero che Verstappen non ha fatto molto Per farsi amare L'anno scorso Con Leclerc La storia è un po' diversa Quindi non credo che Quest'anno Hamilton Diciamo Avesse fatto Ci ha provato a Cobbs All'interno Però con due mescoli di vantaggio Quest'anno male Leclerc le ha chiuso a porti faccia Però per dire Con la gomma rossa Secondo me Leclerc Teneva dietro Hamilton Facile facile Cioè senza un pezzo d'ala Giravano pari Senza un pezzo d'ala Giravano pari A parità di gomme Ok Quindi con gomma rossa Pari Nuova entrambi Per me lo teneva dietro Non solo C'era Sainz Primo Che non si fermava Quindi tu potevi dire a Sainz Fai passare Charles In un punto strategico E poi Paracarra Tutto quello che puoi Tieni dietro Hamilton Lo metti fuori dal DRS Non lo piglia più Lo metti fuori dal DRS Non lo prende più Perché Leclerc Era il più veloce in pista Senza un pezzo Lo sottolino Senza un pezzo d'ala Era il più veloce in pista Con Hamilton Se lo metti fuori dal DRS Non lo prende più A parità di gomma Non lo prende Se lo prende Lo prende all'ultimo giro Non lo passa mai Perché non lo passava Con due mescoli di vantaggio Lo passa con la stessa mescoli A parità di mescoli Ma non passava mai Hamilton a parità di mescoli Ma non prendiamoci in giro No Nemmeno questo hanno studiato Cioè Poi il bello è che dicono La cosa più bella poi Cioè la cosa più divertente Quando dicono a Sainz Carlos Prendi di stacco Da Da Charles E paracarra tutto Ma se io fossi stato Sainz Avrei fatto retromarcia Addosso a Hamilton Dalla vergogna Per carità Poteva finire così Però Cioè anzi Forse Avrei tirato dritto Contro Charles pure Cioè Prima retromarcia E poi avrei tirato dritto Cioè Ma che discorso è Ma che discorso è Giravano due secondi Più forte con la rossa Anche se piglia Mezza pista di stacco In tre giri Lo pigliavano di nuovo Che richiesta È Che richiesta È Che cazzo Gli stai chiedendo Cioè Se fai l'errore Ai box Non puoi dire al pilota Che non c'entra nulla Perché oggi non c'entra niente Sainz Oggi non c'entra niente Poverino Oggi è vittima Di un muretto stupido Anche se ha vinto Anche se ha vinto È vittima Cosa gli dici Prendi metà pista Di distacco Dalle clerk Lo pigliano in due curve Hanno due mescole di vantaggio Con dieci giri Alla fine Con macchine scariche Da qualifica Con quello che c'ha Le gomme di trenta giri Usate Come cazzo pretendono Che Sainz Potesse paracarrare tutto Cioè Anche paracarrando tutto Giravano più forte Di un secondo lo stesso L'avrebbero preso comunque Cioè Che Io non ho pa Ma almeno Non dire niente a Sainz Almeno non dire nulla Lascialo correre Digli Race open Gara aperta Fai quel cazzo che vuoi Almeno gli avessero detto questo Era più credibile No Così avete preso per il culo Le clerk Che gli avete inculato la gara E prendete per il culo Sainz Perché lo prendete per un coglione Come 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 veramente Lino Banfi Cioè lo prendete veramente come un coglione Cioè Non è un coglione Non è così incretino Sainz È È È scarso No non è scarso Un buon pilota Sì Ma non è un coglione È un buon pilota Non è forte come i suoi compagni di squadra No decisamente Non è Verstappen Non è Hamilton Non è Non è Le clerk Però è un buon pilota Ma non è un cerebroleso Non è un handicappato Nonostante sia stato il Polman numero 104 Della storia E quel numero La dice lunga Ma non è un coglione Cioè Non può essere così imbecille Sainz A sentire certe cose Cioè io veramente Avrei piantato dritto la macchina A muro con le clerk pure Cioè Almeno stai zitto Almeno stai zitto Almeno Non dire Niente A Sainz Almeno ha vinto la Ferrari Almeno Perché oggi c'è il rischio Di non vincerla Anche oggi Con Verstappen Morto C'è il rischio Di non vincere Nemmeno oggi E guardate che solo la Ferrari Ha queste capacità innate Solo la Ferrari Ha queste capacità innate Di riuscire a non vincere Gare stravinte Perché questa è una gara Stravinta Anche questa Però vabbè Perez che cambia direzione Repentinamente Nel Alle prime curve E le clerk Se lo trova davanti Quella è casualità Purtroppo Non ci si può fare niente Lì Le clerk aveva impostato la curva Perez ha stretto E vabbè Pazienza Però Dio Cristo Abbi almeno La faccia tosta E il coraggio Di non dire a Sainz E qui lo difendo Perché Molti mi hanno detto Sì ma Sainz Doveva Doveva Tenere la posizione Doveva arretrare Doveva prendere di stacco È andato contro La scuderia Ma come fai Cioè Cioè posso capire Che non lo Avevano parità di gomma Vabbè ok Parità di gomma Ma due mescole di vantaggio Due mescole di vantaggio Gomma rossa Nuova Contro gomma dura Usata da 25 giri Ma dove cazzo Di spazio Vuoi prendere Anche se Sainz Faceva tutto il giro In terza Lo pigliava comunque Cioè Io Non lo so Sono più allucinato Dal team radio Ferrari Oggi I team radio Di oggi Sono la La spiegazione Perfetta Della situazione Ferrari Non ce n'è uno Con le palle In quel muretto Di parlare Come si deve Tutte queste Mezze frasi Mezze verità Mezzi pensieri Mezzi cazzi Mezzi ma Che poi non fanno altro Che creare Tensione all'interno Del box E dei piloti stessi Perché Leclerc Oggi stava fumando Ma aveva ragione Che cazzo di risposte Sono Ma mi sembrano Team radio Di un muretto Di formula 1 Che vuol vincere Un mondiale Stiamo lottando Abbiamo il margine Su Hamilton Per fermarci Quindi Che risposta è Ma questi Prendono veramente I soldi Cioè Ma veramente Ma non ce n'è uno Uno Dico Uno Che parli chiaramente In quel muretto Perché queste Mezze frasi Di le cose Come stanno No Non lottiamo Perché se no Sfanculiamo la gara Ma dillo Ma dillo Ma si Chiaro almeno Poi sono i piloti Che se se la prendono E' colpa loro Sono cazzi loro Se se la prendono Ma è così Tu sei un muretto Devi impartire istruzioni No Non lottate Non lottate Perché se no La gara va a puttane Tenete la posizione Fra tre giri Svuoppiamo le macchine Se merda Inza un passo di merda Così era Punto Fine Tre righe Quattro secondi Di team radio Cento per cento Di informazioni Fine Il pilota è contento L'altro pure Perché l'altro dice Vabbè sono solento Faccio passare il mio compagno Di squadra Che è più veloce di me Quell'altro dice Oh finalmente ho capito Che cazzo stiamo facendo Ma almeno parla chiaro Poi ripeto La gara E' stata bella Gli ultimi giri Pazzeschi Grazie alla safety car Ma lo sarebbero stati A prescindere Con Hamilton in rimonta Perché Hamilton Sarebbe arrivato Almeno su Sainz Per la questione benzina Su Leclerc Poi Si vedeva anche In quanti giri Sarebbe arrivato su Sainz Da come si difendeva Sainz Dai doppiati E da tutto quanto Però Oggi Secondo me Era Leclerc Hamilton e Sainz Se non fosse entrata La safety car Poi La Ferrari Non riesce a strutturare Loro hanno Il loro game plan Ok Loro hanno Il loro game plan Senza Senza intoppi Se la gara È al 100% Senza un cazzo Che succede Loro hanno la strategia Appena succede Un qualcosina Che cambia Quel piano Finita Basta Basta Non sanno cosa fare Oggi è l'esempio perfetto Oggi è l'esempio perfetto Di come Un game plan Studiato Nel pre-gara Lo hanno portato a termine Fino al giro Dalla safety car Dalla safety car In poi Basta Si sono persi Non avevano Il quick thinking Non hanno il quick thinking Non hanno uno Che ragioni in fretta E dica Ok allora È successo questo Quindi la situazione è questa Quindi facciamo così Non c'è Loro hanno i prefabbricati Loro hanno i prefabbricati Le strategie prefabbricate Tipo Formula 1 2021 Il gioco Dove c'ha le strategie fisse E quelle hanno Le scelgono così Forse le scelgono alla playstation Non lo so Le sceglieranno il pre-gara così A occhi chiusi Alla playstation Ok questa è la strategia che facciamo Cioè non lo so Non ho idea veramente Non so cosa dirvi Oggi non so cosa dirvi Ma ripeto Non è tanto il risultato Che mi manda in bestia Perché tu puoi anche sbagliare Ok Mercedes qualche volta E Red Bull Hanno sbagliato anche loro Al muretto Ma non hanno mai dato Dei team radio Così assurdi È quello il problema Perché scapita sbagliare Errare umanum est Ma no Quei team radio Non sono umani Non sono Ma non sono Di una scuderia seria Quei team radio Avevano fatto incazzare Pure il Dalai Lama Avrebbe sbroccato il Papa Avrebbe bestemmiato E dato giù tutti i santi Pure il Papa E ditemi di no Aggiungerei Ha vinto Merdainz però Sono contento Sono contento Visto Visto il team radio Che gli hanno fatto Dopo la safety car Sono contento Che abbia vinto Vaffanculo E se Verstappo In vince il mondiale Per i punti Che ha perso oggi La Ferrari Godo il doppio Fatemi sapere Io vi ricordo Vi ricordo un cazzo Vi ricordo niente Ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti